Avrà nelle gambe una partita di campionato in più domenica pomeriggio l'avversario della Paganese di questa settimana. La siculale Onzio di Pino Rigoli infatti scende in campo domani per il match col Catanzaro. Una partita che i siciliani vogliono vincere per risalire la china. Rigoli ha lanciato il guanto di sfida, due partite in casa consecutive e non ne vince quasi mai nessuno. Dobbiamo farcela, ha detto l'allenatore, passato per qualche settimana anche da Nocera qualche anno fa. Azzurro stellati che dovranno approfittare però della stanchezza possibile degli avversari e della propria freschezza atletica visto che arriveranno alla partita con una settimana di allenamenti in più e senza aver giocato in campionato per via della propria sosta. Paganese che comunque guadagna punti su alcuni avversari e pur non giocando. Infatti Andria ed Akragas sono state penalizzate insieme al Matera per inadempienze con la Covizoc. Mister Favo spera invece di recuperare al meglio alcuni giocatori. Ancora da valutare le condizioni di Fabinho mentre sono out Bernardini e Carini. Dopo il successo di Coppa con la Juve Stab il tecnico si attende conferme in terra siciliana. Conferme fuori casa se le aspetta dai suoi giocatori anche il tecnico della nocerina Morgia. Al San Francesco i rossoneri hanno un percorso quasi netto con un solo pareggio su sette partite giocate e ben sei successi. Il problema dei Molossi è quando si allontanano dalla propria casa. È lì che si stanno perdendo punti importantissimi per pensare di vincere direttamente il campionato. Solo otto i punti conquistati come di otto punti è il distacco dall'inaspettata capolista Troina che sta assumendo un po' le sembianze che l'anno scorso sono state del Trastevere nel girone poi vinto dal Bisceglie in Extremis. Insomma alla nocerina ogni anno tocca vedersela con qualche squadra sorpresa. Morgia vuole una risposta forte dai suoi avvallo della Lucania contro una Gelbison che è stata quasi sempre una bestia nera per i rossoneri. L'anno scorso, si ricorderà, la sconfitta al Morra portò anche all'esonero di Maiuri con l'avvento poi in panchina di Gianni Simonelli. Morgia può iniziare a fare gli scongiuri. L'allenatore romano deve poi valutare le condizioni di Cavallaro, ancora non al meglio. Potrebbe lanciare dal primo minuto Dieme, apparso invece in forma e non solo per il rigore conquistato e poi segnato da Russo per i tre punti con la cittanovese. Siamo alla Cavese, i metelliani sognano di conquistare il primo posto della classifica del girone H entro la fine dell'anno, forti anche di un calendario più che favorevole. Due impegni consecutivi in casa contro squadre di bassa classifica, Gragnano e Manfredonia e in trasferta a prenatalizia abbordabile a Fratta. La serie di vittorie consecutive può evidentemente continuare, ma il tecnico Bitetto vuole gettare acqua sul fuoco. L'entusiasmo va bene, ma in una piazza calda e complicata come quella di Cava, meglio vestire i panni del pompiere. Bitetto lo sa bene, qui è stato calciatore e qui sta facendo grandi cose come tecnico. Ed è una Cavese però quadrata, equilibrata, forte di alcune individualità che stanno facendo la differenza. Questo fa ben pensare. Non tutti i protagonisti della Rosa, tra l'altro, hanno ancora reso per quanto atteso. Quindi c'è da augurarsi un'importante reazione anche da quelli che finora hanno giocato di meno. Bitetto sa di avere poi la migliore difesa del girone a disposizione, ma anche l'attacco inizia a sbloccarsi e rende al meglio. Con il Gragnano serve un primo squillo, aspettando buone nuove da Potenza e Altamura che dovranno vedersela rispettivamente con Ardo e Gravina. Grazie a tutti.